Massimiliano Pugliese, responsabile filiale Televista Como. Televista Como nasce già con un team affiatato. Eh sì, perché noi, io, Michele e Francesca, abbiamo lavorato per dieci anni insieme in altre attività e tra l'altro Francesca è anche mia moglie, quindi oltre all'attività familiare ci dividiamo anche l'aspetto lavorativo. Benissimo, tra l'altro lei offre un plus perché prima faceva l'installatore anche. Sì, ho fatto l'installatore per quasi quattro anni e dal punto di vista lavorativo facendo assistenza all'installatore è molto importante perché forse prima riesco a capire un po' la problematica che ha l'installatore e oltre quello capire anche che è il suo un problema che vuole che sia risolto entro breve perché è dal cliente e la soluzione del problema è importante farla subito, ecco. Per quanto riguarda il cuore pulsante, qual è quello di Televista? Ma sicuramente il magazzino dove l'installatore viene e ha la certezza di avere il prodotto subito. Se poi noi, che siamo una filiale, c'è da ricordare quello, non abbiamo il prodotto è sicuramente la sede nostra di Meledo che spedisce in meno di 24 ore perché se l'ordine viene fatto entro le tre di pomeriggio, la mattina dopo l'installatore ha il prodotto dove lui ha la necessità che possa essere la filiale, possa essere la sua sede oppure anche in cantiere. Quali altri plus offre Televista? Ma sicuramente il servizio di riparazioni, nel senso che noi l'installatore, se il prodotto è in garanzia, lo anticipiamo, cioè l'installatore non deve andare dal cliente, prendere il pezzo guasto, portarcelo e poi non lo sostituiamo o lo valutiamo. Se il prodotto è in garanzia, il nostro installatore viene prima da noi, prende il pezzo che deve sostituire al cliente, lo porta dal cliente e poi ci fa avere il pezzo guasto che noi poi manderemo a riparare tramite la nostra sede principale. Francesca Pandolfi, front office Televista Como. La cura del cliente potremmo dire? Assolutamente sì. Il buongiorno inizia comunque in Televista con un benarrivati. Continua con un caffè, nel senso che la nostra caratteristica di Televista, di tutte le filiali Televista, è quella comunque di far sentire il nostro cliente a casa. Per cui è sempre pronto comunque un benvenuto con un caffè, una colazione o comunque un aperitivo, siamo sempre qua. E continua invece con la cura del cliente, con un front office, si spera, sempre più efficiente. Qual è quindi la funzione del front office in Televista? Il front office in Televista è l'anello di congiunzione del tecnico e del commerciale. È l'anello proprio di congiunzione anche con il cliente. Per cui è nostro compito, è il mio compito, dare al cliente tutta l'assistenza necessaria, eventualmente metterlo in contatto con il commerciale oppure con il responsabile tecnico e dare le mie risposte chiaramente primarie. Quali quindi gli strumenti che usate qui in Televista come supporto al cliente? Allora, il supporto al cliente viene utilizzato l'e-commerce, per cui abbiamo il sito che è di Televista ovviamente, e il cliente è aiutato in modo che lo utilizzi come strumento di lavoro suo personale. Ci teniamo che lo utilizzi proprio anche per i suoi preventivi, con il suo logo e via dicendo. Abbiamo anche il nostro showroom, che comunque è qui in azienda, a Como. Invitiamo il cliente ad utilizzarlo proprio per i suoi clienti, in modo che sia il nostro showroom e il suo showroom, in modo che sia proprio il suo strumento di lavoro, anche l'ambiente. Quindi un vostro cliente può accompagnare qui i suoi? Assolutamente sì, nel senso che chiaramente avvisandoci, nel senso con un lieve anticipo, possiamo comunque mettere a disposizione gli strumenti che abbiamo noi. Gli stessi che utilizziamo noi per i nostri clienti possono essere utilizzati anche da lui, per i suoi clienti.